Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Gaia e nel video di oggi vi parlo dei libri che ho letto a settembre. Alla fine di ogni mese mi siedo qui e vi faccio un bel wrap up in cui vi parlo delle letture appunto fatte durante il mese appena trascorso. Questo mese ho letto questi libri qui, che sono un bel po'. In realtà, ad esempio, questo grande mattoncino qua l'avevo già iniziato ad agosto, quindi non l'ho letto interamente a settembre, anche perché sennò sarebbe stato impossibile leggere tutti questi libri. E quindi ora mi metto a parlarvi di tutti i libri uno per uno. Prima di cominciare, mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un like di sostegno sotto questo video. Direi che potete mettervi comodi, di cose da dire ne ho moltissime, voi appunto potete decidere anche di ascoltarmi senza guardare effettivamente il video, quindi usare questo contenuto quasi come fosse un podcast. E inizio subito con il primo libro che ho finito di leggere a settembre, che avevo già in realtà iniziato ad agosto, che è questo saggio che si chiama Il Mostruoso Femminile. Questo libro all'inizio non mi stava entusiasmando, non mi stava entusiasmando, non mi è piaciuta tanto l'introduzione che viene fatta al libro, però leggendolo poi sono, penso, riuscita a capire qual era il senso e qual era l'intento primario dell'autrice. Autrice che cerca di indagare come mai le donne, spesso e volentieri, sono raccontate come se fossero dei mostri. Il sottotitolo infatti è Il patriarcato e la paura delle donne. Il libro è suddiviso in tre grandi capitoli in cui si parla delle donne, prima come figlie, poi come mogli e infine come madri. È un libro molto interessante che prende come esempio tutti quelli che sono i prodotti culturali, quali film, libri, serie tv, ma anche cronaca, giornalistica, storie di true crime, e mette in luce come la narrazione di questi appunto prodotti spesso costruisce una visione della donna come mostro, come mostruosità. I film che vengono presi ad esempio sono molto conosciuti, come potrebbe essere Il caso dell'esorcista, che è un film appunto che tutti noi conosciamo, possiamo averlo visto o meno, ma che è sicuramente parte della nostra cultura. E appunto prendendo come spunto questi singoli casi si va a raccontare una storia molto più grande. Io trovo che questo libro sia davvero molto interessante. Interessante perché ci sono sicuramente delle riflessioni molto profonde al suo interno, con le quali noi possiamo concordare o meno, ma che hanno, diciamo, portano con sé delle fonti poi effettivamente reali, certe, insomma, non sono riflessioni basate su nulla, ma allo stesso tempo possono essere più o meno indagate nel profondo. Cioè, nel senso, non so se sto riuscendo a spiegarmi, ma ci sono delle cose con cui io mi sono trovata molto d'accordo, delle cose che mi sono sembrate leggermente più abbozzate e potevano essere approfondite meglio. Nell'insieme trovo che il libro dia tantissimi spunti di riflessione, di approfondimento, che poi si possono fare anche in autonomia. Penso sia un libro al quale ci si deve approcciare, secondo me, se si ha già una base sul movimento femminista, quindi se si conoscono già quali sono le tematiche principali, le lotte che porta avanti il femminismo, perché altrimenti si rischia di non comprendere, secondo me, il senso più profondo appunto del libro, che è un ottimo spunto di partenza per un'analisi che si può fare anche da soli. Alla fine del libro, infatti, viene riportata la bibliografia, la filmografia e tutti quelli che sono i prodotti dal quale Sally Doyle ha attinto per portare avanti appunto quella che è la sua tesi, ovvero che le donne vengono costruite come se fossero dei mostri e si porta avanti questa narrazione spesso e volentieri. Molto utile, infatti, vedrete che nei preferiti del mese sono andata poi effettivamente a guardare alcuni di questi film e sono andata anche a leggere alcuni di questi libri, infatti questa lettura mi è servita molto anche a comprendere meglio altre letture che ho fatto nel corso del mese, dopo vedrete. Vi consiglio anche di guardare un altro video che è stato fatto qua sul BookTube, fatto da Aurora, che ha questo canale, Sapiantina, in cui ha fatto proprio un video in cui parla per tantissimo tempo di questo libro, Il Mostruoso Femminile, un video che mi è piaciuto davvero tanto, penso che lei sia capace di parlare in modo molto chiaro delle letture che fa, portando anche comunque una sua riflessione personale e riportare in modo davvero completo quello che i libri che legge cercano di raccontare. E è il caso del Mostruoso Femminile, praticamente quando l'ascoltavo dicevo Oddio, avrei voluto dirlo io, cioè è proprio quello che pensavo io, non so, non sarei mai capace, penso, di parlare come parla lei, bene come parla lei, però visto che l'ha fatto lei, io vi dico andate da lei che l'ha fatto meglio di me e sicuramente riuscirete a capire qualcosa in più di questo libro, che è davvero un testo, secondo me, dal quale si può tirare fuori molto e quindi di base io comunque ve lo consiglio se vi interessano questi argomenti. Ho portato avanti poi le mie letture ascoltando un libro in audiolibro, che però avevo anche in cartaceo, e si tratta di Blue, di Giorgia Tribuiani. Questo libro l'ho ascoltato su Storytel e diciamo che l'ascolto mi ha colpita parecchio, perché? Perché è un libro, secondo me, che si presta molto per essere appunto ascoltato, in quanto la lettura, secondo me, può risultare molto difficile. Allora, la trama è questa. La trama è quella di una ragazza che si chiama appunto Ginevra, ma che vuol farsi chiamare Blue e viene chiamata Blue, che ha tutta una serie di pensieri nella sua testa che la spingono appunto ad avere anche delle ossessioni. Noi, quando leggiamo questo libro, siamo praticamente dentro di lei. Sentiamo i suoi pensieri, li sentiamo anche reiterati, ci sono molte ripetizioni. La mente umana spesso ripropone sempre lo stesso ciclo, appunto, di pensieri, di frasi, spesso quasi fastidiose a volte, e la scrittura, secondo me, cerca di riportare questo flusso di coscienza, chiamiamolo così, utilizzando uno stile molto difficile per chi lo sta leggendo. Addirittura anche l'ascolto a volte può risultare nauseante, proprio perché ci si sente quasi rinchiusi all'interno di questa testa e non si riesce a uscire da questa. C'è un senso quasi di claustrofobia, che però è il senso di claustrofobia, secondo me, che prova la protagonista che racconta la sua vita. Quindi è un senso di claustrofobia voluto e sensato per quello che il libro racconta. La protagonista, appunto, è una giovane ragazza, un'adolescente, che ha, appunto, diverse problematiche, sono le problematiche che hanno gli adolescenti, come i primi approcci fisici con il proprio partner, come la ricerca di se stessi, di che cosa si vuole fare nella vita, chi si vuole essere nella vita, insomma, un libro che comunque cerca di raccontare quelle che sono delle problematiche adolescenziali, ma, secondo me, lo vuole fare in un modo molto personale e non vorrei dire quasi inedito, perché non so se poi effettivamente qualcuno l'abbia già fatto, ma sicuramente in modo molto particolare e caratteristico. Siamo quindi nella testa di Blu, una testa ossessionata da alcune cose, ma con anche delle propensioni personali verso, ad esempio, l'arte, ma allo stesso tempo un forte senso di colpa nei confronti degli altri e tutta una serie di problemi che vengono, appunto, raccontati attraverso dei pensieri ossessivi, cioè un'ossessione ossessiva, l'ossessione è sicuramente la parola principale all'interno di questo libro, non perché è utilizzata molto, ma perché si riconosce nella protagonista e sicuramente un libro che, ripeto, è meglio ascoltare per quanto mi riguarda, perché potrebbe risultare una lettura molto difficile, appunto perché lo stile è molto complesso. Mi è capitato anche di ascoltarlo mentre leggevo alcune pagine e mi rendo conto che chi ha letto questo libro, ora non ricordo il nome, comunque ve lo metterò qui, ha sicuramente attuato nei confronti della scrittura una forte interpretazione che io probabilmente da lettrice non sarei riuscita a portare avanti ed è riuscita a dare, appunto, con la sua voce un'interpretazione delle parole che danno anche un po' il senso al tutto. Probabilmente, ripeto, se avessi dovuto semplicemente leggere in autonomia il libro non sarei riuscita a raccontare così bene la storia, a raccontarmela così bene in testa. Io spero di essere stata chiara. Ho ascoltato poi anche un altro libro che è Le otto montagne di Paolo Cognetti. Questo libro ha vinto il premio strega nel 2017 e secondo me è proprio una bellissima storia italiana perché riporta tutta quella che è una mentalità, che è la mentalità di chi vive in montagna, di chi ama le passeggiate in montagna, di chi ama arrampicarsi, di chi è legato molto al territorio, che è una caratteristica, secondo me, molto italiana, quella dell'amore per la propria terra, per le proprie origini, per il proprio paese, proprio per la propria terra, nel senso per la propria roccia, per i propri fiumi, per il proprio paese, per la propria casa che sta in quel paese e questo libro riporta tutte queste sensazioni, tutte queste emozioni, tutto questo modo di vivere. A me è piaciuto molto perché in particolare anch'io sono un'appassionata di montagna, sto scoprendo la montagna sempre di più negli ultimi anni. Andare a camminare è un'esperienza davvero totalizzante che, come dice proprio anche questo libro, non si riesce poi a riportare, a raccontare a chi non è venuto a camminare con noi, ma è rimasto a casa. E a un certo punto c'è anche un altro bellissimo passaggio in cui si parla delle diverse altitudini, in montagna, e di come ognuno di noi ami di più una certa altitudine perché lo rappresenta di più. E quindi c'è chi ama andare in vetta dove non c'è più vegetazione, dove c'è solo nuda roccia grigia, c'è chi invece ama il sottobosco, dove c'è il muschio, dove nascono diversi tipi di cespuglie, piante. Ed è vero, e questo libro secondo me riesce a raccontare, a riportare proprio tutto questo mondo che o si riesce a vivere prima o poi nella propria esistenza o non si capirà mai. Ho letto anche Via col vento, questo mattone gigantesco scritto da Margaret Mitchell all'inizio del Novecento. Questo libro l'ho letto insieme al gruppo di lettura Le Pagaie che si trova su Instagram. Se volete aggiungervi anche voi trovate tutto nelle storie in evidenza sul mio profilo Instagram. Abbiamo letto questo libro, ci abbiamo messo qualche mese ma ce l'abbiamo fatta e abbiamo poi fatto una live in cui abbiamo discusso su tutte le tematiche che porta questo libro, su tutte le nostre riflessioni, su tutti i nostri pensieri in merito che vi consiglio di recuperare se anche voi l'avete letto. Nel senso che si fanno un sacco di spoiler, non so se ho detto è una live che poi ho salvato sulle IGTV quindi vi consiglio di andare a vederla solo ed esclusivamente se avete letto il libro. Altrimenti vi racconto in modo breve diciamo di che cosa parla questa storia. Questa storia che spesso e volentieri viene presentata come una storia d'amore e questo mi fa arrabbiare parecchio non è una storia d'amore, è la storia di Rossella O'Hara o Scarlett O'Hara nella traduzione che ho letto io. Una donna, all'inizio del libro una ragazza, una giovane ragazza che vive negli stati del sud durante la guerra di secessione americana. Quindi si ritrova in un contesto storico, in un periodo storico difficile ancora da stabilire che sta per essere diciamo messo a repentaglio. Infatti lei appunto è figlia di un proprietario terriero, vive con un forte spirito sudista, parliamo quindi di schiavismo, parliamo di grandi piantagioni di cotone, parliamo di tutto un mondo che sta per crollare. Questo mondo appunto viene messo in discussione quando parte la guerra di secessione che ha inizio proprio durante i primi capitoli del libro. Parte così quella che è la crescita personale di un personaggio, Rossella O'Hara, Scarlett O'Hara, che è uno dei personaggi meglio riusciti della letteratura, penso di sempre, in quanto è un personaggio che subisce un'evoluzione che è incredibile, un personaggio che è al di fuori di qualsiasi schema, di qualsiasi stereotipo mai scritto. È un personaggio, e abbasso il libro perché mi sto spaccando il braccio, Rossella O'Hara, incredibile. Sono stata interrotta dal Corriere quindi non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Comunque vi basti sapere che questo è uno dei libri più belli che io abbia mai letto. sicuramente rientra tra i libri preferiti dell'anno, ma penso di sempre. È una storia travolgente che cattura dalla prima all'ultima pagina. È un libro che, nonostante la mole, scorre via velocissimo e anzi lascia anche un senso di tristezza quando lo si porta a termine perché si vorrebbe che questa storia non finisse mai. È un libro davvero incredibile che io consiglio a tutti perché non è una storia d'amore come in tanti dicono, ma è una storia di crescita, una storia di rivalsa, una storia americana di quelle potenti con appunto questa protagonista che è la protagonista per eccellenza, ripeto, uno dei personaggi secondo me meglio scritti di sempre. Tra l'altro, dopo aver letto il libro ho guardato anche il film, anche il film è molto bello ma sicuramente non tanto quanto il libro che è un'avventura incredibile e io lo consiglierò da adesso in poi a chiunque quindi aspettatevi di sentirmi parlare di via col vento ancora per tanto tempo. Se vi va fatemi sapere pensavo di fare un video solo su questo libro perché c'è talmente tanto da dire che penso di aver bisogno di più tempo più spazio appunto per parlarvi meglio di questa incredibile storia. Passo poi a un altro libro che ho in cartaceo ma come al solito ho ascoltato e si tratta dello strano caso del Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Sappiamo tutti di che cosa stiamo parlando è una delle storie più celebre di sempre e io la volevo appunto recuperare in qualche modo. Ho trovato l'audiolibro su Storytel ma ho visto che c'è anche su Audible e mi è piaciuto molto perché ha una narrazione molto completa che integra sia appunto la lettura ma anche la musica gli effetti sonori quindi è molto coinvolgente per chi non la conoscesse è una storia misteriosa tra due personaggi che sembrano essere gli opposti l'uno dell'altro uno sembra rappresentare il bene l'altro sembra rappresentare il male questi personaggi sono stranamente collegati tra loro e nessuno sa perché il libro indaga questo il racconto indaga questo e insomma in questo caso io vi consiglio di ascoltarlo comunque una storia anche abbastanza in tema se volete qualche lettura autunnale per prepararsi a Halloween con delle atmosfere tetre oscure misteri cose da scoprire a me piacciono tanto queste letture e secondo me sanno molto di autunno ho fatto un'altra lettura di questo tipo proprio perché mi sto preparando per questa stagione che a me piace tanto e perché sto anche preparando un video in cui voglio consigliarvi dei romanzi da leggere per Halloween e ho letto anche Rebecca la prima moglie questa è l'edizione che ho io ma adesso non esiste più così ma esiste così questa è la nuova copertina del saggiatore che aveva mandato da un po' di tempo fuori produzione questo libro che non veniva proprio più pubblicato è stato però ora riportato alla luce ristampato grazie a una nuova trasposizione cinematografica che è stata fatta nell'ultimo anno negli ultimi anni insomma vi lascio qua il trailer questa è la nuova versione del libro che però era già stato trasposto cinematograficamente si dice trasposto cinematograficamente vabbè di cui era già stata fatta una trasposizione cinematografica da Hitchcock che è poi la più celebre da cui prende ispirazione e spunto anche la copertina che appunto è un frame del film una storia inquietante con tanti tanti risvolti psicologici nella quale abbiamo come protagonista questa giovane ragazza che si ritrova a sposarsi con un uomo che aveva precedentemente avuto un'altra moglie Rebecca questa Rebecca è il fantasma della storia si parla sempre di lei si paragona sempre la nuova moglie a Rebecca e Rebecca appunto sembra minare la tranquillità di quello che potrebbe essere il matrimonio perfetto tra una giovane ragazza e un ragazzo non più tanto giovane il nostro insomma signor de Winter e tutto questo si svolge all'inizio con un bellissimo sfondo francese Monte Carlo con questo ambiente tranquillo agiato per poi spostarsi in una dimora Menderly che è questa grandissima casa che viene definita quasi castello dove il signor de Winter passa la sua vita una dimora elitaria tenuta molto bene con molti domestici un luogo che viene addirittura visitato dai turisti per quanto è bello con dei giardini molto grandi e ben tenuti che affaccia sul mare una dimora insomma da sogno che però nasconde appunto il suo lato oscuro è un libro che si presenta come un romanzo gotico in cui appunto secondo me l'indagine più inquietante rimane quella psicologica non aspettatevi secondo me di leggere questo libro avere paura vera perché la paura vera secondo me non c'è è un romanzo che comunque rimane anche molto lento una scrittura che si prende il suo tempo ci sono molte descrizioni si passa da una fase all'altra con molta calma non è uno di quei romanzi in cui succedono mille cose nell'arco di poche pagine anzi però è una lettura secondo me molto travolgente appunto perché ci proietta Menderly ci sembra di essere lì ci sembra di essere la protagonista si empatizza molto con questa protagonista che è una protagonista silenziosa che si sente fuori posto che si sente a disagio che si sente costantemente paragonata appunto a questa Rebecca che è il fantasma del passato che torna è un libro di cui parla anche il mostruoso femminile il libro di cui vi parlavo prima in quanto anche in questo caso c'è un'interessante analisi che si può fare nei confronti del matrimonio come quel luogo in cui si pensa di poter riuscire a far andare le cose come si vuole per poi rendersi conto che l'aspettativa è diversa dalla realtà che il matrimonio può essere una gabbia dalla quale è difficile scappare soprattutto per una donna e che può essere un luogo spaventoso il matrimonio come luogo spaventoso ecco e questo secondo me è anche uno degli aspetti più interessanti del libro che trova poi riscontro anche nella vita dell'autrice che ha avuto a sua volta tante difficoltà all'interno del suo matrimonio bene detto questo io ve lo consiglio appunto se state cercando una lettura altamente suggestiva perché questa lo è sicuramente ho poi ascoltato anche un altro libro e si tratta del processo di Kafka l'ho ascoltato in audiolibro ho visto che c'è sia su Storytel che su Audible e a me è piaciuto molto ascoltarlo forse mi è riuscito anche più facile così che leggerlo perché è una storia come sono spesso le storie di Kafka che fa arrabbiare fa arrabbiare perché il protagonista è questo signore che viene chiamato K che a un certo punto si sveglia e scopre di essere sotto processo scopre di essere innanzitutto in arresto per aver compiuto qualcosa non si sa che cosa non si sa mai che cosa ha compiuto quest'uomo non lo si sa dall'inizio alla fine del libro e lui non lo chiede come al solito i personaggi che Kafka porta in scena sono personaggi inerti che non chiedono che non fanno nulla che stanno lì immobili e aspettano che qualcosa accada che aspettano che le cose si muovano come vogliono loro ma loro non fanno assolutamente niente perché questo succeda ed è una cosa che a me dà un fastidio terribile ma che è anche così vera perché lo faccio anch'io cioè a volte mi aspetto che le cose vadano in un certo modo ma poi mi rendo conto che non sto facendo assolutamente nulla perché le cose vadano in questo modo è un libro anche che fa della denuncia sicuramente nei confronti dei tribunali di tutta quella che è la procedura giudiziaria è un libro che sicuramente denuncia tutto questo denuncia tutto quello che è l'apparente stato di interesse nel quale si pongono appunto questi giudici questi avvocati che però è uno stato che in realtà un'attitudine che non ha non porta i suoi frutti che non ha senso di essere perché poi alla fine come dice Kafka saremo sempre tutti colpevoli nessuno verrà mai scagionato nessuno riceverà mai una vera e propria giustizia perché poi alla fine non esiste mai una soluzione reale il tribunale colpevolizzerà sempre chiunque e è un libro sicuramente che ha tantissimi livelli di lettura e a me piace un sacco anche per questo Kafka anche se io odio detesto appunto i suoi protagonisti che mi danno un fastidio ma mi va bene così perché mi va bene quando i libri suscitano in me emozioni anche se queste sono negative e quindi ho apprezzato davvero molto questa lettura dopodiché ultimo ma non per ultimo ho letto perché non sono femminista di Jessa Crispin in questo libro l'autrice critica il femminismo quello che definisce femminismo universale ovvero il femminismo non di facciata ma un femminismo diciamo buono che cerca di conciliare tutto e non vuole essere distruttivo lei dice che non può esserci femminismo ad esempio se non c'è una critica feroce nei confronti del patriarcato una critica che si manifesta con la volontà di distruggere appunto tutta quella che è la struttura sociale lavorativa che il patriarcato ha creato ad esempio lei critica queste femministe buoniste che vogliono trovare uno spazio all'interno di questa struttura ad esempio dicendo ci devono essere più donne al potere ci devono essere più donne come amministratrici delegate di aziende e manifestano in questo modo il loro femminismo senza in realtà comprendere che in questo modo perpetrano appunto quella che è una struttura che deve essere distrutta che deve essere buttata giù lei proprio dice dobbiamo buttare giù il patriarcato dobbiamo buttare giù tutto quello che c'è e ricostruire da capo un nuovo sistema di lavoro un nuovo sistema di vita un nuovo sistema sociale questa visione è sicuramente estremista è sicuramente una visione molto forte lei appunto per questa ragione non vuole definirsi femminista perché non si riconosce con i valori che il femminismo odierno sta portando avanti ma lei vuole essere più brutale con il suo femminismo diciamo che è un libro secondo me interessante perché si può concordare o meno con la sua visione però allo stesso tempo secondo me è bene conoscerla e riconoscerla in quanto ad esempio io mi rivedo molto di più in questo modello di femminista universale bonista che lei descrive e che lei vuole combattere e quindi mi sono sentita con questo libro in un certo qual modo attaccata ma allo stesso tempo sono riuscita a riflettere su che cosa può portare il femminismo in cui credo a che cosa può portare il femminismo in cui credo e che cosa invece deve essere più radicalizzato in certi aspetti quindi un libro secondo me utile se già conoscete il femminismo se già conoscete questo movimento se vi ritenete parte di questo e se volete in qualche modo fare un'autocritica nei confronti di voi stessi o voi stesse è un libro anche che per alcuni aspetti rimane molto in superficie secondo la mia opinione quindi sicuramente non è un testo completo è molto breve è molto veloce in alcuni passaggi e non penso di aver compreso appieno alcune parti proprio perché non sono state approfondite nel migliore dei modi però allo stesso tempo ripeto è un buon strumento di analisi è un buono strumento con il quale si può riflettere su chi si è chi si vuole essere che tipo di lotta si vuole portare avanti e queste cose qua detto questo vi ho parlato di tutti i libri che ho letto questo mese sapete che qua sotto trovate il link ad amazon di ognuno di questi se volete acquistarli passando appunto per questo link io prendo una piccola percentuale sul vostro acquisto senza costi aggiuntivi per voi questo mi aiuta a sostenere il canale spero che questo video vi sia piaciuto noi ci vediamo al prossimo ciao